Il Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri ha effettuato un bilancio dell'attività operativa nell'anno 2022. Sono stati 5.993 i delitti verificatisi in tutta la provincia, pari all'86% del totale di quelli perseguiti dalle forze dell'ordine, traendo in arresto 151 persone e denunciandone 2.008 in stato di libertà. L'Arma dei Carabinieri della provincia di Macerata ha inoltre assicurato alla giustizia gli autori di due omicidi, il primo consumatosi l'8 agosto 2022 a Civitanova Marche, procedendo unitamente alla Polizia di Stato, e il secondo a San Severino Marche il 27 novembre 2022. Sempre lo scorso anno l'andamento della delittuosità in provincia ha fatto registrare rispetto al 2021 una diminuzione del 26% delle rapine e dell'8% delle istruzioni. In aumento invece del 25% i furti, oltre a un incremento dell'attività di contrasto allo spaccio delle sostanze stupefacenti, con il sequestro di 113 kg di droga. Sono state inoltre denunciate in stato di libertà 45 persone per indebita percezione del reddito di cittadinanza. Nell'ambito del fenomeno della violenza di genere, nel 2022 sono stati attivati 76 codici rossi a tutela delle persone vittime di reato. Infine, per quanto concerne l'attività contravvezionale, sono state accertate 4.449 violazioni al codice della strada, delle quali 193 per guida in stato di ebrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.